Ciao sono Angela, ho 22 anni e sto studiando lingua urbino perché ho frequentato il corso di insegno per videomaker. Mi è piaciuto molto il corso perché praticamente è stato molto introduttivo diciamo parte dalle basi quindi ti permette appunto di partire da zero anche se magari non hai mai tenuto in mano una fotocamera quindi veramente raggiungi un livello che magari non pensavi diciamo appunto perché dici ok parti dalle basi magari chissà farà solo delle cose introduttive però appunto diciamo adesso che stiamo finendo il corso stiamo proprio facendo diciamo il montaggio noi stiamo proprio girando un cortometraggio diciamo quindi è veramente completo. Lo consiglierei appunto perché ti permette di partire diciamo veramente dalle basi serve per le persone appunto per partire quindi ti dà veramente ti dà le basi quindi lo consiglierei veramente soprattutto alle persone che non sono del settore quindi non sanno dove mettere le mani come nel mio caso quindi adesso mi sento molto più sicura e quindi lo consiglierei veramente. Ringrazio soprattutto Livio l'insegnante che veramente spettacolare una persona veramente assurda e tutto qua grazie